carissimi benvenuti ci ritroviamo per un secondo appuntamento di quaresima con il commento al vangelo di questa prossima domenica appunto stiamo facendo questo cammino bello interiore di meditazione personale della parola di dio per poter vivere ancora di più questa quaresima in avvicinamento alla santa pasqua e a partire da questa domenica da questo commento in realtà c'è una piccola novità ma credo molto molto bella perché ad aiutarci nei commenti dei vangeli ci saranno alcuni operatori pastorali della nostra collaborazione che vogliamo ringraziare già da subito anche il buon michele che ringraziamo ecco per la sua presenza e ci aiuterà proprio a meditare sul vangelo di questa prossima domenica nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame o spirito santo vieni nel mio cuore per la tua potenza tiralo a te o dio e concedimi la carità con il tuo timore libera mio cristo da ogni mal pensiero riscaldami e infiamma mi del tuo dolcissimo amore così ogni pena mi sembrerà leggera santo mio padre e dolce mio signore ora aiutami in ogni mia azione cristo amore cristo amore cristo amore amén dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù prese con sé pietro giovanni e giacomo e salì sul monte a pregare mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante ed ecco due uomini con se conversavano con lui erano mosè ed elia apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a genusalemme dietro ai suoi compagni erano oppressi dal sonno ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui mentre questi si separavano da lui pietro disse a gesù maestro è bello per noi essere qui facciamo tre capanne una per te una per mosè e una per elia egli non sapeva quello che diceva mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra all'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva questi è il figlio mio l'eletto ascoltatelo appena alla voce cessò restò gesù solo essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto vediamo allora quale potrebbe essere una chiave di lettura che ci aiuti a capire meglio questo brano inquadrandolo nel contesto delle cose che sono successe fino a poco prima perché questo è un momento di vera crisi vediamo che a un certo punto Gesù comincia ad avvertire i suoi discepoli del fatto che il potere politico e religioso del suo tempo non tollereranno la sua predicazione e la sua azione infatti li avverte che lui sarebbe stato messo a morte ma poi sarebbe anche resuscitato allora luca che è il vangelo che stiamo leggendo non ci riferisce la reazione dei discepoli però lo fanno marco e matteo ci dicono che i discepoli restano scandalizzati pietro addirittura lo piglia da parte e gli dice senti qui devi cambiare musica sappiamo che Gesù reagisce dicendo a pietro stai zitto addirittura lo chiama satana e poi e questo ce lo dice anche luca ci dà questo forte ammonimento ci dice chi vuole seguirmi deve prendere su di sé la sua croce ogni giorno insomma la situazione è questa Gesù ha iniziato a insegnare ha compiuto anche dei segni prodigiosi e questo gli ha dato un bel successo un grande seguito folle intere che gli vanno dietro però lui sa che le autorità politiche e religiose non tollereranno quello che gli sta facendo e che se continua così la sua strada finirà sul dodo in più c'è il problema che i discepoli non hanno capito bene chi lui sia pensano che sia il messia certo ma hanno in mente un messia che è un condottiero vincitore glorioso invece lui è ben altro messia è il servo sofferente che ha preannunciato Isaia il significato di questa scena può essere doppio prima di tutto c'è il significato che è collegato a quello che ho appena detto cioè che per pietro giovanni e giacomo anche se sul momento non capiscono del tutto ma poi ripensandoci arriveranno a capire che in questa scena Gesù si presenta come il vero messia che è il secondo significato è quello per il quale Luca ha scritto questa scena per presentarla ai cristiani del suo tempo per i cristiani degli anni 80 dopo cristo questa scena è la conferma che Gesù è davvero il figlio di Dio un ultimo dettaglio per completare l'inquadramento lo accenno solamente è quello che troveremo nell'ultimo versetto del vangelo resta Gesù solo vediamo adesso il brano evangelico in questa situazione di crisi Gesù va a pregare non ci va da solo ma porta con sé i discepoli più fedeli Pietro Giacomo Giovanni non sappiamo perché cosa pregasse domenica scorsa abbiamo sentito il vangelo delle tentazioni fra le altre cose il diavolo ha mostrato a Gesù il potere e la gloria volendo fare un'ipotesi potrebbe anche essere che Gesù si rivolga a Dio Padre per pregarlo che lo aiuti a vincere la tentazione che poteva anche avere di fare quello che le folle e persino i suoi discepoli volevano da lui cioè di diventare un messia di questo mondo un messia glorioso vincitore e quindi Gesù porta con sé i suoi tre discepoli per pregare forse non voleva pregare da solo o forse voleva che fossero testimoni di quello che stava per succedere certo è che la presenza proprio di quei tre ci fa pensare a un parallelo con un'altra scena del vangelo e forse Luca l'evangelista voleva proprio creare questo parallelismo la scena è quella dell'agonia nell'orto del Gelsèmani anche lì Gesù si ritira per pregare sono presenti gli stessi tre discepoli arrivano delle figure celesti nel caso del Gelsèmani un angelo qui invece Mosè ed Elia e in entrambi i casi ci sono questi testimoni che però capiscono poco e anzi dormono l'aspetto di Gesù cambia in entrambi i casi nel Gelsèmani addirittura sulla santa ma forse il punto più importante della somiglianza tra le due scene è quello per il quale può essere che Luca abbia voluto tracciare questo parallelismo e cioè che in entrambi i casi alla fine della scena si afferma la volontà di Dio padre naturalmente il radicale cambiamento di aspetto di Gesù in questa scena è molto diverso da quello che vedremo invece nel Gelsèmani qui il suo aspetto diventa sfolgorante diventa radioso glorioso addirittura cambia anche il volto di Gesù possiamo immaginarci lo stupore ma anche la gioia la pace la serenità che devono aver provato Pietro Giacomo e Giovanni davanti a questo spettacolo e questa è proprio la conferma che Gesù è il Messia è il Messia di gloria solo che la sua gloria non è quella a cui pensavano i discepoli e quindi la trasfigurazione diventa anche il primo passo in un cammino di conversione per i tre discepoli per tutti i cristiani e anche per noi in questa gloria chiaramente ultraterrena ecco che compaiono Mosè ed Elia Mosè rappresenta la legge ed Elia i profeti queste due importanti figure della Bibbia rappresentano il fatto che nella figura di Gesù si compie viene portata a compimento la promessa dell'Antico Testamento ma direi di più Mosè rappresenta la legge è la parola di Dio scritta per essere vissuta quindi Mosè ci ricorda che la nostra fede deve essere una pratica non una teoria deve essere uno stile di vita concreto Elia invece certo era probabilmente considerata il più importante dei profeti però è anche un profeta il cui Dio compie l'inaspettato quindi ci ricorda che dobbiamo avere fiducia in Dio anche quando succedono cose che non ci aspettavamo anche quando ci sono eventi inaspettati dobbiamo confidare in Dio sappiamo però di che cosa parlavano quei tre Gesù Mosè ed Elia dell'esodo di Gesù a Gerusalemme allora l'esodo è l'uscita l'uscita dall'esilio dalla schiavitù è un momento di sconvolgimento ma anche di liberazione di fatica e di sofferenza ma anche di salvezza e non è per caso che sarà durante la Pasqua ebraica parola che vuol dire passaggio appunto che Gesù si trova a Gerusalemme ed affronterà la passione e la morte e vivrà la risurrezione. I tre discepoli sul momento non lo capiscono ma noi col senno di poi vediamo che Gesù è glorioso ma anche sofferente anzi che la sua gloria è nella sua sofferenza o per dirla con parole sue che il suo regno non è di questo mondo. In effetti anche il più potente dei re di questo mondo anche gli unti del Signore, il re Davide per esempio, tutti loro sbagliano, peccano e alla fine muoiono invece il passaggio di Gesù sulla croce e persino nel sepolcro è per noi la promessa della risurrezione e della vita eterna di un regno che non avrà fine. A questo punto c'è poi la reazione dei discepoli di cui Pietro è portavoce. La gloria è bella, la croce molto meno naturalmente. Meglio restare in cima al monte. Vorrei però che non leggessimo questo momento nel solito modo, cioè che Pietro non ha capito niente, che la vacanza è finita e che è il momento di scendere di nuovo alla faticosa pianura degli uomini. Tutto questo è vero sì, però dov'è la bellezza della nostra fede se stiamo sempre in pianura? Dov'è la gioia del Vangelo? Pietro dice è bello, noi quando pensiamo al nostro credo, forse spesso pensiamo in termini di buono, giusto, doveroso, ma bello? Invece forse dobbiamo riscoprire la bellezza della fede. Può essere che non possiamo compiere la nostra missione nella faticosa pianura solamente grazie alla forza di volontà, solamente grazie a un senso del dovere. Può essere che abbiamo bisogno almeno qualche momento, qualche volta di avvicinarci alla cima del monte, di intravedere la trasfigurazione. Forse ci è anche capitato, magari una volta nella vita, di fare un'esperienza di trasfigurazione. Può anche essere che questo succeda in un momento di dolore e di fatica. Ci avviamo così alla conclusione. La nube è sempre un segno della presenza di Dio e la paura è la reazione normale dei personaggi della Bibbia a questo punto. Una paura che forse abbiamo anche noi quando abbiamo l'impressione di sentire il sussurro di Dio, perché può essere che ci spaventi quello che lui potrebbe dirci. Ma la voce del padre ci dice una cosa molto importante. Conferma, per i primi lettori di Luca, ma quindi anche per noi, che Gesù è veramente il figlio di Dio e poi con una sola parola ci dice che cosa dobbiamo fare. Ascoltarlo. Peraltro Gesù era stato presentato così come il figlio di Dio già in un altro momento importante, il momento del suo battesimo. E siamo alla fine. Ci resta forse qualche dubbio, qualche dubbio su chi ascoltare, su chi seguire? Un'indicazione molto importante ci viene da quell'ultimo versetto. I fratelli nella fede, i maestri, soprattutto i testimoni, possono esserci di grandissimo aiuto se ci indicano Gesù solo. Adesso vorrei proporre qualche domanda che forse può essere di aiuto nella riflessione personale. Non sono certo le uniche domande possibili, ma possono essere un punto di partenza. In questo modo ognuno può cercare di leggere questo brano alla luce della sua esperienza di vita. Per esempio, percepisco la bellezza della mia fede? Mi è mai capitato di reagire come Pietro? C'è qualcosa che mi conforta mentre porto la croce? La mia croce? E che cosa? Cosa significa la somiglianza di questo episodio della trasfigurazione con la scena del Getseman? Cosa significano per me oggi le due figure di Mosè ed Elia? E infine, cosa significa per me ascoltare Gesù solo? Ecco, per fare veramente mio questo brano del Vangelo posso partire da queste domande o anche da altre, o fare una meditazione libera, magari con qualche piccola avvertenza. Per prima cosa posso fare silenzio per una decina di minuti? Se è possibile potrei andare in qualche luogo bello ed appartato, che sia un po' il mio Monte Tabor, dove isolarmi e meditare in pace. Poi posso invocare lo Spirito Santo, perché illumini con la sua luce la mia lettura di questo Vangelo dentro la mia vita. A questo punto posso rileggere il Vangelo con calma, anche più volte, soffermandomi sul pezzetto, sulla frase o anche sulla parola che mi hanno colpito di più. E potrei annotare questa frase o questa parola e chiedermi come mai mi colpisce tanto, se la parola di Dio sta parlando proprio per me e per la mia situazione di vita attraverso quella frase o quella parola. Grazie Michele per questo tuo contributo importantissimo per questo tempo di Quaresima. È davvero bello vedere che ci sono dei laici che si mettono a disposizione della parola. Questa è davvero l'evangelizzazione che vogliamo esprimere anche dentro la nostra collaborazione pastorale. Approfitto, entro vicino a te, per ricordarvi alcuni appuntamenti importanti che hanno a che fare con il tempo di Quaresima, che abbiamo voluto intitolare Kenosis, dove andiamo a riflettere su varie forme della povertà. E allora, innanzitutto, la povertà spirituale. Questo è un esempio, il fatto che abbiamo la necessità, sentiamo il desiderio di poter vivere la parola di Dio nella nostra vita anche attraverso la meditazione personale. E poi venerdì ci sarà l'appuntamento alle 19 in chiesa con la Via Crucis. Ancora domenica dalle 17 alle 18 l'appuntamento con l'adorazione eucaristica e le confessioni a Plaino. E subito dopo le 18 i Vespri con la lettura meditata della Fratelli Tutti, documento molto bello di Papa Francesco. Mi ricordo anche che a partire dalla prossima settimana, così intanto uno si prepara, c'è l'appuntamento importantissimo che ha a che fare innanzitutto con gli esercizi spirituali per la vita corrente. Ecco, un appuntamento importantissimo, troverete sul nostro profilo Facebook, tutte le informazioni. Siamo in comunione con gli uffici catechistico e della pastorale giovanile diocesana. E poi c'è un appuntamento speciale davvero molto bello, secondo noi, che ha a che fare invece con la riflessione proprio sulla povertà. L'abbiamo voluto intitolare in questo modo. Ecco, Pagnacco e Plaino aperte alle povertà del mondo. Si tratterà di un approfondimento e una riflessione anche con testimonianza di un giovane che arriva direttamente dall'Etiopia, grazie anche alla Caritas diocesana. L'appuntamento sarà mercoledì prossimo alle 20.30 in chiesa a Pagnacco. E dopo gli avvisi parrocchiali, che insomma ci devono essere anche quelli, ecco, vi ringraziamo per questo vostro ascolto. Speriamo che la meditazione della parola di Dio possa portare buoni frutti e buona preghiera.